Sono quattro le persone identificate e multate ieri dalla Polizia Municipale, secondo quanto prescritto dall'ordinanza del Sindaco, nel corso dei servizi finalizzati al contrasto della prostituzione su strada. Sono due ragazze rumene di 22 e 31 anni e i rispettivi clienti, un residente nel Ravennate di 40 anni e uno della provincia di Forlice Sena di 56. L'intervento è avvenuto sulla Statale 16, nel tratto tra Fosso Ghiaia e Savio di Ravenna, dove da anni vi si concentra il fenomeno della prostituzione.